Non sappiamo chi è il puparo, chi muove le fila della strategia eversiva in Calabria e non sappiamo neppure cosa vuole. Su chi piazza le bombe alla procura generale sotto casa del procuratore generale di Landro, su chi minaccia i magistrati, sta indagando la procura di Catanzaro e spero in risultati concreti in tempi ravvicinati. Lo dice in un'intervista alla stampa il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, a Reggio prosegue. C'è una situazione estremamente preoccupante con il succedersi di attentati e di minacce e tuttavia mai come in questo momento si fa sentire l'offensiva dello Stato. I successi sono stati numerosi. Tra aprile e luglio, in provincia di Reggio, sono stati eseguiti 300 arresti con operazioni congiunte con Milano. L'organizzazione è stata colpita ai vertici, la sua struttura è stata individuata. Il nodo che dobbiamo sciogliere è questo, aggiunge chi negli apparati passava informazioni a Zumbo con l'incarico di riferirla ai mafiosi senza chiedere apparentemente nulla in cambio. Quello che dobbiamo chiarire è chi c'è dietro questo progetto criminale. Credo che oggi l'andrangheta si trovi di fronte a un bivio, dice. Deve decidere se e come modificare la sua organizzazione, il suo livello di struttura interna. È sottoposto a vigilanza continua nell'area terminal del porto di Gioia Tauro il container contenente 7 tonnellate di esplosivo T4 sequestrato nei giorni scorsi nel corso di un'operazione della Polizia, della Guardia di Finanza e del personale delle Dogane. Le indagini della DDA di Reggio Calabria dopo la scoperta dell'esplosivo nel porto calabrese che si conferma al centro degli scenari dei traffici illeciti proseguono per ricostruire il percorso seguito dal carico. Una prima segnalazione dell'intelligence relativa alla presenza di un container pieno di esplosivo era stata fatta alla fine delle mesi di agosto. Le indagini sono rivolte anche a scoprire se, oltre a quello scoperto nello scalo calabrese, ci siano altri container pieni di esplosivo in giro per il Mediterraneo. Allo Stato, ha detto il procuratore di Reggio Giuseppe Pignatone, non ci sono novità rispetto a quanto abbiamo detto. Si procede sulla base di quanto è emerso e di cui abbiamo riferito. Gli inquirenti non sembrano avere dubbi sul fatto che il carico non fosse destinato all'andrangheta ma ad organizzazioni operanti nell'area del Medio Oriente. L'esplosivo alla termine degli accertamenti che verranno fatti per tentare di acquisire utili elementi verrà probabilmente distrutto. Proseguono con straordinaria intensità le adesioni alla manifestazione in programma per il 25 settembre a Reggio Calabria, una manifestazione per dire no all'andrangheta. Il comitato unitario Cigelle Cisdre Will sarà presente, a dirlo ai nostri microfoni, e il segretario generale Cigelle Calabria Sergio Genco, il quale, evidenziando gli innumerevoli e drammatici condizionamenti perpetrati dall'andrangheta e subiti dal tessuto economico, politico, sociale, culturale e dal mondo giudiziario, ribadisce la necessità di una risposta ferma e unanime dei calabresi tutti che non vogliono arrendersi. E il 25 settembre a Reggio Calabria, a Fermagenco, rappresenta un momento decisivo per dire insieme e uniti no all'andrangheta. La Cigelle ha risposto immediatamente sì, ma assieme a noi, Cisdre Will, tantissime altre associazioni, movimenti. C'è una rincorsa all'adesione incredibile, 340 associazioni, tra le più diverse, che hanno aderito per giorno 25. Affinché la manifestazione sia una manifestazione di stimonianza, ma anche di speranza, per indicare il futuro di sostegno a uomini dalla schiena dritta, come il procuratore della Repubblica, Salvatore Di Landro, ad una magistratura molto coraggiosa, molto operativa, ma per dire assieme a questo che il Governo nazionale deve cambiare le politiche sulla Calabria, sia per quanto riguarda la sicurezza, la legalità, sia per quanto riguarda lo sviluppo. E la possibilità finalmente di avere un tavolo nazionale dove questi problemi, questi bisogni, queste aspettative vengano discussi e sui quali trovare le giuste, le adeguate soluzioni. Se da una parte occorre che ci sia un intervento decisivo del Governo, è necessario anche la partecipazione di tutti i cittadini a qualsiasi livello. Ritorniamo al 25 settembre. Sì, un appello. Tutti a Reggio per costruire assieme una nuova Calabria. Assieme ce la possiamo fare. Per cui tutti a Reggio. Questo è l'appello normale che voglio fare alla Calabria e ai calabresi, perché appunto ci sia da lì una ripartenza per tutti quanti noi. Grazie a tutti.